a pensarci a fondo ci si perde è spaventoso quasi dici bene metti giù immediatamente sei tu ero io eppure il sole sorge tutte le mattine tramonta tutte le sere a noi indifferente hai finito di toccare le mie cose ti ho detto di mettere giù interessante appunto è il tutto accade nonostante la nostra presenza la mente superiore che governa il tutto lo è solo nel distacco lo è cosa superiore ti vuoi risedere per favore mi stai innervosendo ma cos'è questa mente superiore dio se sapessi rispondere a questa domanda un alone di luce accompagnerebbe ogni mio passo chiamala come vuoi dio alla mefistofele perché esistono anche i seguaci dell'anticristo a un virgiliano come me piace chiamarla natura la suprema natura la perfetta natura superiore super partes la magnifica indifferenza che muove il sole le altre stelle che tuona e soffia peste sulle strade che abbatte i tralicci e soffoca nell'afa eppure rincuora coraggio mattutino che riscalda gli inverni e rinfresca le stati e di seta sciogliendo le nevi e asciuga le alluvioni tutto questo che tu la pensi oppure no che tu esista oppure no la morte verrà e ti prenderà per mano come una madre compassionevole e invece per la natura che tu sia suo figlio un perfetto sconosciuto è uguale ti prende e ti avvolge ferina animale selvaggia ti sto spaventando no al contrario tu mi stai conducendo nella quiete del pensiero io ti sto seguendo col sorriso come vedi ma non hai risposto alla mia questione chi siamo noi chi sia tu non lo so proprio chi sia io non mi interessa chi sia la gente mi viene orrore a pensarci la vita è bella vero è il mondo che fa schifo la vita è bella la tua età a parte la natura è tutto così relativo che nessuna conclusione si può attirare nemmeno della natura o di dio possiamo parlare vero cosa ne sappiamo noi giusto tacciamo se il mondo è orribile succedono cose che lasciano a bocca aperta anche il saggio sulla montagna e sta sulla montagna proprio per evitare di specchiarsi a bocca spalancata lottare è inutile eppure c'è chi non riesce a farne a meno per alcuni la vita è lotta scontro alludi a qualcuno in particolare i particolari sono inutili nei romanzi al cinema servono perché la gente la deve imboccare se no non ti segue non capisce nel flusso dei giorni vince l'indistinto sotto la lente del tempo il generale non è così sì è così quindi non è importante sapere chi siamo no perché a te non importa sapere chi siamo ma chi sei tu non è così e ti importa degli altri sì ma io faccio parte dell'insieme e se riesco a trovare delle risposte su di me forse riuscirò a comprendere i miei simili e viceversa illuso socrate ti è stato utile cristo alla gente piace parlare perché ne ha bisogno piace o ne ha bisogno il bisogno nasce dal piacere povero ignorante don ferrarese supremazia e maledizione della dittatura del pensiero la filosofia che a nulla serve a nulla deve stiamo a sbattere la testa contro i muri pur di cavarci un pensiero logico e non otteniamo altro che polvere di calcina che si deposita ai piedi del muro e godiamo a non capire parlandone a vanvera i migliori di noi almeno sanno trarne bellezza tu che sei ignorante ferrarese non avrai mai letto solo un ignorante prende appunti delle demenze di un vecchio sta cambiando il tempo non mi stai a sentire evito le tue fregnacce devi dirmelo ti prego ho bisogno di sapere questa cosa altrimenti non vado avanti con l'articolo non so più che scrivere hai dimenticato quello l'altra volta che cosa spinge una persona qualsiasi di impugnare le armi ad ammazzare ti prego paolo per alcuni la vita è lotta scontro te l'ho già detto ma perché perché il sole sorge ogni mattina quindi non c'è un perché è un sentire è un essere che vuoi dire te lo devo scrivere io questo articolo a freddo oggi vuoi che ti prendo un'altra coperta no com'è che è così freddo oggi la giornata è abbastanza calda sono vecchio se non te ne sei ancora accorto prendimi quella foto per favore no non quella quella a fianco e quell'altra grazie ecco vedi quest'uomo era mio padre un fascista convinto tutto d'un pezzo rispettabile è morto da fascista tu non sapresti morire allo stesso modo tanti altri non saprebbero morire allo stesso modo e questo sono io partigiano a 17 anni perché spirito di ribellione ho amato mio padre ma avevo una visione di vita diversa non meno combattiva più disordinata meno moralistica ma altrettanto combattiva e mio padre ha combattuto per il suo credo e vi è morto sono figlio di mio padre lo capisci massimo avvicinati questa è l'ultima volta che ci vediamo che dici dico che è l'ultima volta che ci vediamo purtroppo sono vecchio lo vedi da te vecchio ma che significa ce ne fossero di vecchi come te la mente ti funziona alla perfezione e non è per forza un bene sono stanco di cosa? e poi comincio ad avere paura di cosa? della vecchiaia massimo tu sei un giovane forte e intelligente nonostante i tuoi natali se fossi nato a Bologna saresti addirittura migliore ma la vita elargisci a piccole dosi la vita che prima o poi deve finire va bene comprendo non è facile ma ci sono delle cose degli affetti io torno anche domani se hai bisogno io ci sono massimo va via senza voltarti te lo sto chiedendo per favore non ci vedremo mai più che stai dicendo? è assurdo Paolo che stai dicendo? è assurdo è assurdo che stai dicendo? è assurdo che stai dicendo? è assurdo è assurdo che stai dicendo? è assurdo